Un saluto e ben trovati alla voce delle istituzioni, ospitiamo oggi in studio il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin, che saluto e ringrazio per la sua presenza. Buongiorno a tutti. Iniziamo con una nota un po' triste, a dire il vero, ma anche di riconoscenza in un certo senso, vogliamo così offrire un ricordo di Ermano De Col, sindaco anche della città di Belluno, ex sindaco, recentemente scomparso. Sì, la notizia che ci è giunta ieri ci ha volti tutti in un profondo dolore, perché Ermano è stato per tanti anni veramente in amministrazione, oltre che a sindaco, si è sempre speso per la sua città, per quello che lui credeva e quindi credo che abbia veramente portato un grande contributo a questa città. Quindi questa mancanza è davvero importante e quindi siamo tutti vicino alla famiglia soprattutto, ma tutti quanti con un senso di riconoscenza con quello che ha dato la nostra città a Belluno. E lo ricordiamo anche nell'ultima tornata elettorale dove si era messa a disposizione della città, vogliamo però allora parlare di questo. Io ero venuto a fare un'intervista quel 12 giugno, quel 13 giugno, insomma i giorni delle elezioni, quella sera ho visto un'atmosfera di grande giubilo, ce la vuole così ricordare. Ci vuole anche parlare delle prime settimane a livello emozionale da primo cittadino. Sì, questi 65 giorni di istituzione a Palazzo Rosso sono stati, come si può pensare, molto impegnativi, che da una parte sono stati spesi per conoscere la macchina comunale, ma dall'altra già prendere delle decisioni, anche seppur impopolari, non così scontate, però dobbiamo in qualche modo riuscire a superare questa problematica che soprattutto abbiamo riscontrato nel bilancio. Quindi tutti insieme, animati da questa motivazione che siamo appena arrivati di capire, di comprendere, stiamo prendendo le opportune decisioni che ci porteranno non a migliorare, cioè a risolvere il problema radicalmente, ma almeno a migliorarlo e poi vedremo come andare avanti, perché la situazione comunque di tutte le amministrazioni in questo momento, dopo un rincaro dell'energia e di quant'altro, non è delle più rosee, quindi si fatica, quindi bisogna in un momento di difficoltà cercare di trovare delle soluzioni. Noi lo stiamo mettendo in atto con delle decisioni prese, mantenendo però il contatto con la popolazione e soprattutto poi il grande lavoro che sto facendo interno, che è quello che avevo dichiarato in campagna elettorale, è quello di andare a conoscere la struttura comunale, quindi i suoi dipendenti, dirigenti, segretario, che è molto importante. Come tutte le aziende, io la calcolo come un'azienda sicuramente ha delle problematiche, ma vanno comprese, vanno valorizzate, sicuramente abbiamo delle grandissime eccellenze, ecco bisogna comprenderle e poi strutturarle. Ho già iniziato, ecco visto che mi sono tenuto la delega al personale, questo lavoro e spero ecco che porti almeno a fine autunno, inizio anno nuovo, già dei primi risultati per strutturare ecco questa azienda come pensiamo, ecco sia meglio renderla più efficienta, ma sempre ecco dando la possibilità a tutti di essere protagonisti. Ha citato la crisi energetica, quindi l'aumento dei costi, in particolare dell'energia elettrica, su questo avete già messo in atto delle azioni? Sì, su questo, come dicevo prima, questa è un'azione solo, non definitiva, risolutiva, ma soprattutto un'azione che ci permette di non trovarci male poi verso fine anni, perché non sarà facile far quadrare il bilancio, ma quello che stiamo mettendo in atto, abbiamo già incontrato diverse ditte che sono così specializzate nella riqualificazione energetica, nell'efficientamento energetico, parlo sicuramente dell'illuminazione pubblica, quindi anche le lucia LED o altre cose, ma soprattutto poi anche abbattere i costi della struttura comunale, quindi tutti gli ambienti comunali, come anche inserire, stiamo pensando ecco insieme al BIM di fare una valutazione, uno studio, se per esempio la discarica di cordelle potrebbe essere un sito adeguato per inserire una grande metratura di pannelli fotovoltaici, quindi questo potrebbe essere come anche Marisiga, quindi tutti i magazzini comunali e della Bellunum, quindi sono tutte cose però che tra la valutazione, tra poi la decisione, la gara e quant'altro ci vuole un anno o anche un po' di più per riuscire a avere i primi risultati, quindi in questo anno sappiamo che dobbiamo sicuramente prendere anche delle decisioni impopolari, ma dobbiamo condividerle e far capire il momento di crisi che stiamo vivendo, quindi è veramente un momento non facile, però con il lavoro che stiamo mettendo in atto io ci credo e sono convinto che dobbiamo trovare per quanto meno, non dico una risoluzione piena, ma almeno un correttivo. Senza elettricità si vive male, senza acqua però si vive ben poco, su questo la rete idrica lo sappiamo ha bisogno di interventi, come pensate di agire? Cosa state facendo? Ma guarda, abbiamo messo in atto un bel tavolo con BIM GSP e col bacino idrico, quindi tutti i comuni, per far fronte a questa emergenza. Da una parte l'emergenza che ci ha portato a queste ordinanze di restrizioni dell'utilizzo dell'acqua che è un bene veramente comune e forse mai come questa volta possiamo capire veramente che l'acqua è un bene comune, non dobbiamo sprecarla nemmeno quando ne abbiamo tanta, quindi è una stagione che nessuno poteva prevedere, quindi siamo corsi e ripari. Il problema importante, come abbiamo letto anche sui giornali e come stiamo confrontandoci, è proprio quello delle perdite, soprattutto del nostro acquedotto che per anni è stato così, fermo le manutenzioni e quindi stiamo cercando veramente insieme al BIM e al bacino idrico trovare delle soluzioni, soprattutto degli investimenti che sono già in atto per riuscire a migliorare queste perdite, insomma che sono assolutamente doverose. Noi come comune, come avete visto, abbiamo chiuso anche tutte le fontane per dare un aiuto a questo, anche se nel periodo di turismo le fontane chiuse non è un bel biglietto, però insomma io credo che tutti quando c'è un'emergenza dobbiamo metterci del nostro, quindi è fondamentale questo, ma penso anche a quello che stanno vivendo con l'agricoltura, gli agricoltori, quindi nelle culture, nel beveraggio agli animali, quindi io ho un po' questa provenienza e questa sicuramente sensibilità, quindi ho già chiesto anche degli incontri con i vari associazioni di categoria per avere un incontro e capire insieme come ci si può aiutare per superare questo momento. Speriamo che queste piogge e quelle che verranno anche da qua in avanti possano un po' limitare se non superare questa crisi. Parliamo di degrado giovanile, se ne parla già da un po' qui a Belluno, in particolare questo fenomeno colpisce via sotto Castello, su questo? Ma questo sappiamo che Belluno comunque al di sopra di tutto è comunque ancora una città sicura, però non dobbiamo permettere anche questi piccoli focolai di poter crescere, quindi abbiamo già messo in atto questo tavolo sulla sicurezza in prefettura con tutte le forze stiamo così rafforzando i controlli, stiamo mettendo appunto anche una migliore monitorazione con le telecamere attuali che alcune insomma non sono disponibili, ma anche implementare per far capire che queste zone siano controllate e far capire a questi giovani che qualcuno li sta controllando ed è giusto insieme fargli crescere e fargli capire il vivere civile, quindi è più che altro un discorso attualmente di prevenzione e di studio, come abbiamo fatto anche quel bel progetto sui giovedì di sera, quindi mettendo in atto questo gazebo insieme anche ai vigili urbani che hanno dato veramente una grande mano e un grande sforzo per essere presenti, così di prevenzione, far capire a questi giovani cosa si va incontro se non si sta veramente alle regole della società, quindi io credo che questo anche dai ritorni che abbiamo avuto è stato ben apprezzato, spero che con questo e tante altre azioni che stiamo mettendo in atto non solo arrivare alla punizione, speriamo ecco di arginare un po' questi piccoli focolari. Questione Nevegal passa di amministrazione in amministrazione, insomma il rilancio tanto desiderato del Colle, ora giunge sul vostro tavolo? Ma assolutamente, sì, il Nevegal è stato uno dei primi progetti, ecco anche in campagna elettorale, perché insomma ha una potenzialità enorme, ha tante associazioni che creano veramente benessere, creano progettualità, spendono tante ore di volontariato, come avete visto anche quest'anno nella pulizia dei sentieri, unitamente al Comune, alla protezione civile e anche alla Regione, io ringrazio anche l'assessore Bottacin che si è speso insomma per darci una mano in questo, siamo riusciti ecco a dare nuovamente una sentieristica ecco adeguata a quello che è l'attuale momento quindi di turismo. Sicuramente ecco l'obiettivo è quello di arrivare e di utilizzare il volontariato per fare qualcosa in più, non per risolvere sicuramente il problema alla radice, quindi su questo spero che gli anni prossimi si possa fare ecco sicuramente qualcosa di in più. E poi abbiamo creato ecco questo dialogo sul futuro sia d'estate che d'inverno e tant'è che l'acquisto ecco degli impianti che insomma è anni che ne parliamo ormai ha già iniziato il suo percorso, siamo arrivati alla fine dell'acquisizione ecco dei due pezzettini, appezzamenti di terreno da acquistare e poi va avanti tutto l'iter di gara, appalto, acquisizione e quindi io credo che per i primi mesi dell'anno si possa ecco arrivare a questo iter definitivo per poi andare poi a fare questa gara per appaltare ecco gli impianti alla società che vincerà comunque la gara. Quindi credo veramente di poter dire di riuscire ecco nei primi mesi dell'anno porre fine ecco a questa eterna faccenda e poi riuscire insieme ecco a sviluppare con questa partenza e anche la grande natura che abbiamo durante la fase estiva di poter fare un progetto globale con chi vive il Nevegaglia che ha le idee, che ha la conoscenza per svilupparlo e anche perché no anche l'ex albergo Olivier e tante altre cose, strutture di poter ecco insieme creare un potenziamento ecco di quello che è la fruibilità turistica di questo ambito che è veramente collegato, io lo vedo collegato con la città, dobbiamo solo ecco strutturare il turismo e quant'altro. Un'altra palla passata diciamo dall'amministrazione Massaro è il progetto rispetto al nuovo ponte Bailey che dovrebbe sostituire il ponte Bailey, come intendete agire? Ma qui guarda abbiamo una scadenza con le nuove manutenzioni fatte, il ponte ha allungato la vita fino al 31-12-2024, noi già dai primi giorni che siamo arrivati a Palazzo Rosso abbiamo già creato una rete ecco con il governo precedente e anche la regione e già stavamo percorrendo ecco delle strade infattibili, purtroppo ecco la caduta di questo governo ha rallentato un po' tutto e adesso dovremmo aspettare ecco dopo le elezioni e iniziare a realizzare ecco queste interazioni con il nuovo governo e capire ecco che come poter ecco risolvere il problema perché è un'opera veramente importante anche se abbiamo il progetto fatto dall'amministrazione precedenza in fase esecutiva però sappiamo che questo ha un'entità attualmente anche con l'aumento ecco delle materie prima che intorno ai 12-13 milioni quindi è un'arteria importantissima da portare a termine ma come si comprende non è semplice trovare una somma così importante. Ci sarebbe eventualmente un'idea alternativa da parte vostra? No, noi puntiamo tutto su quello, abbiamo anche valutato cose alternative però no, io credo che quella sia per la viabilità ecco interna ma anche quella esterna sia un'arteria veramente importante e lo vediamo anche quando a dicembre è stato così chiuso per manutenzioni le problematiche, quel disagio che ha creato ecco per chi arriva dal sinistra piave, dal castionese e quant'altro quindi riteniamo che bisogna andare avanti su questo e trovare le soluzioni per questo finanziamento. Siamo quasi in chiusura, c'è tempo però di un piccolo aggiornamento sul palazzetto De Massa. Sì, quello è un grandissimo progetto che condividiamo in pieno, è un contenitore ecco a nord dell'attuale palazzetto a circa 1300 metri quadri e è in fase quello ecco di progettazione e ha dei tempi ben stabiliti perché già a gennaio inizierà ecco la assegnazione della progettazione, a marzo ci sarà la cantire e già ecco i primi di aprile dovremo aprire il cantiere perché entro la fine del 25 dobbiamo già aver finito l'opera. Io credo che sia un'opera che porterà grande beneficio ecco allo sport, insomma sappiamo tutti che lo sport, gli ambienti sportivi ecco sono quelli più sani che portano a crescere i ragazzi, a educare e quindi avere un palazzetto in più ecco nella nostra città da sportivo posso dire che l'abbiamo accolta veramente con grande enfasi questo progetto e quindi lo stiamo portando avanti nei tempi dovuti e con la giusta forza. Su questo esauriamo il tempo a nostra disposizione, io ringrazio ancora il sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin per questa chiacchierata. Grazie a voi. Grazie a voi telespettatori per averci seguito, arrivederci. Grazie a voi. Grazie a voi.